Sì, innanzitutto ci dobbiamo concentrare su questa partita di campionato, prima di pensare alle altre. Questa per noi è una partita molto importante, anche perché adesso le partite che mancano sono sei e quindi noi dobbiamo cercare di trovare prima possibile i punti, quelli importanti, quelli per la salvezza. Quindi adesso ci dobbiamo concentrare su questa partita che sicuramente è una partita insidiosa e dobbiamo cercare di raccogliere tre punti. Noi è da un periodo che stiamo lavorando bene, stiamo facendo bene e stiamo raccogliendo punti importanti. Dobbiamo continuare su questa strada fino alla fine, finché non abbiamo comunque i punti quali necessari. Quindi la scuola sta bene e dobbiamo continuare così. Sicuramente è un obiettivo che abbiamo, che è quello di arrivare in finale. Siamo in semifinale, però ancora c'è da giocarlo. Partiamo da un risultato di 1-1, però la partita sarà complicata. Però è un obiettivo che abbiamo noi e che vogliamo raggiungere. Comunque, visto che l'obiettivo ormai per quest'anno è la salvezza, quantomeno toglierci una soddisfazione con la Coppa. No, no, penso che noi per ora la testa l'abbiamo al campionato che è sicuramente la priorità. Poi penseremo alla Coppa. I tifosi sono fondamentali sempre. Più ci sono, meglio è. Quindi chiediamo anche a loro una mano che ci possano dare un sostenimento a questa partita.